Presenti i nostri ospiti, ben saluto per la maggioranza l'On. Alberto Bagnani della Lega che è anche Presidente della Commissione Parlamentare di Controllo sugli enti previdenziali no, la dico così anche se la dicitura è più articolata è troppo articolata, buongiorno e grazie per l'invito grazie a lei allora, poco fa l'Enel ha diffuso una nota in cui si dice che in relazione al grave incidente appunto nella centrale di Bargi, Enel Green Power esprime ancora profondo cordoglio e vicinanza tutte le vittime alle loro famiglie e l'azienda continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti Bagnani, ma è un problema di cultura della sicurezza o un problema appunto di norme e di controlli? Ma intanto distinguerei la cronaca dalle statistiche il momento del dolore, del rispetto per le vittime, del rispetto per i soccorritori che stanno per anno in condizioni particolarmente difficoltose da quello dell'analisi perché poi in queste circostanze quando si parla di numeri si corre sempre il rischio di, come dire, entrare in una sfera così apparentemente asettica io mi associo naturalmente a tutte le parole di cordoglio e anche alla necessità di non strumentalizzare il singolo evento poi però passando all'analisi dei dati perché appunto in Commissione Antigestori mi occupo non solo della Previdenza ma anche dell'assistenza i dati dell'Inail ci dicono che per quanto sia nello scorso anno gli incidenti mortali sono diminuiti del 4,7% in un contesto in cui il tasso di occupazione è andato aumentando in decollo verticale quindi questo significa che una maggiore cultura del controllo che si è realizzata anche attraverso finalmente l'entrata in servizio di oltre 800 ispettori del lavoro i risultati li sta dando ho un po' di dubbi su certe interpretazioni per esempio l'affermazione modello di fare impresa del segretario Dandini che rispetto non capisco se è una critica al capitalismo in sé alla quale io mi associerei toto corde peraltro o se è una critica invece ad alcuni modelli di esercizio aziendale voglio dire una banalità è nel Green Power le turbine non le costruisce quindi sentito dire e già vedo sui giornali polemiche riferite al tema degli appalti ma chi dovrebbe rivolgersi se non a ditte specializzate un gestore di un impianto che era sia di produzione che di pompaggio fra l'altro perché l'acqua scendeva e risaliva dai due bacini per i noti problemi connessi alla necessità di utilizzare l'idroelettrico per stabilizzare la rete via via che le rinnovabili si diffondono quindi insomma peraltro do un dato più recente un dato di gennaio per riflettere su un'altra cosa abbiamo avuto un aumento rispetto a gennaio dell'anno scorso il 2023 di due vittime siamo sull'ordine delle 44 di cui tre determinate da incidenti occorsi in itinere ricordiamoci che nella statistica delle vittime rientrano anche quelli che si stanno recando al posto di lavoro e lì oggettivamente il modello industriale c'entra di meno c'entra l'efficienza delle rete di trasporti e i comportamenti individuali che sono due cose sulle quali questo governo tramite il ministro Salvini cerca di incidere poi se ci riuscirà ovviamente come giustamente notava chi mi ha preceduto ci vuole anche tempo per vedere un'inversione di una tendenza simile oggi non possiamo dire se questo meno 4 si consoliderà quest'anno o magari aumenterà però le linee di azioni sono queste noi non possiamo pensare di avere le prime ditte pulite, perfette e poi dietro non andiamo a vedere che succede perché poi capitano queste tragedie viene in mente rispetto alla sua riflessione a proposito dei controlli che si evocavano prima che anche l'ultima impresa nella filiera dei subappalti dovrebbe avere i lavoratori in regola dovrebbe avere applicare le regole di sicurezza secondo lei lei ha toccato un tema importante a proposito di cultura delle imprese allora noi dobbiamo entrare nella logica che una ditta può dare un lavoro in subappalto ad un'altra ditta solo se c'è un motivo valido di know-how di conoscenze cioè la ditta che prende l'appalto deve dimostrare che quel lavoro lo dà fuori perché non lo può fare lei ma se il motivo del subappalto è il risparmio e se il lavoro è di mano d'opera lei mi fa capire perché una ditta in subappalto ha un costo inferiore alle prime ditte che stanno come facciata perfette pulite evidentemente risparmierà qualcosa ed è questo che diciamo noi devi giustificare il motivo tu perché dai il lavoro fuori perché vuoi sfruttare il lavoratore o risparmiare sulla sicurezza o dai il lavoro fuori come diceva il collega perché hai bisogno di un know-how particolare allora se tu hai bisogno di un know-how particolare se tu non puoi fare quel lavoro e allora bene dallo a una ditta specializzata ma se tu invece usi un'altra ditta solo per assumere i dipendenti e risparmiare su quel costo no c'è anche un problema di appalto al massimo ribasso? ma allora io non sono così sicuro dico rispettosamente che la logica del ragionamento del collega Gubitosa sia assolutamente impeccabile perché preso al suo valore nominale questo ragionamento sembra alludere al fatto che se un ispettore del lavoro si reca su un cantiere poniamo edilizio e vede poniamo un operaio su un ponteggio che non è agganciato gli chiede sei di una grande azienda sì e allora lo sanziona sei di una piccola azienda no e allora non lo sanziona se queste norme non vengono rispettate chi dirige il cantiere le ditte coinvolte vengono sanzionate a prescindere da dimensioni a prescindere dal livello di subappalto cioè non vorrei spostare il tema dell'attenzione diciamo da quello che è il punto determinante che è il punto dei controlli controlli che non si fanno anche perché la pubblica amministrazione nel corso delle illuminate gestioni iniziate con la stagione del 2012 in poi è stata privata di risorse per poterli fare e adesso li stiamo rimettendo queste risorse per poterli fare cioè questo vorrei che fosse sul tema poi della fretta qui mi trova d'accordo il collega Gubitosa ma in parte questa fretta nella stagione attuale non credo assolutamente che sia il caso di questo impianto e non credo che ci siano ancora stati casi di quel tipo ma si potrebbe anche immaginare che un certo tipo di scadenze molto rigide che non a caso il ministro Giorgetti ieri ha chiesto di rivedere quelle del PNRR possano possano determinare questa ansia una cosa sulla scia proprio di questa sua ultima sottolineatura noi chiediamo di andare oltre il 2026 per completare ma guardi che lo chiedono anche gli altri sì sì no no io dico noi altri paesi l'attuazione tempestiva del PNRR essenziale perché la scadenza del 2026 è fissa cioè come dire non ne parliamo neanche ma sa quante scadenze fisse abbiamo visto punto primo oltre a chiedersi se una scadenza è fissa bisogna chiedersi anche se è sensata poi voglio ricordare che noi avremmo dovuto cedere MPS ai mercati non so quanti anni fa era una scadenza fissa cioè diciamo l'Europa è una generatrice seriale di problemi di moral azar perché come ha anche rilevato ieri il ministro Giorgetti dà delle scadenze che poi lei stessa non rispetta normalmente noi facciamo la figura dei come dire degli ultimi della classe ma in realtà poi se uno osserva bene basta andare a guardare il monitor sui lavori del PNRR dove vengono confrontate le situazioni dei vari paesi europei l'Italia non è assolutamente la più in ritardo sono tutte scadenze fisse sì ma fino a giugno perché poi si vuota e il quadro comunque evolverà si evocava Giorgetti sentiamo una sintesi di quello che ha detto ieri Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DEF al documento di economia e finanza questo DEF tiene conto di quelle che sono le decisioni o meglio la rivoluzione delle regole di bilancio fiscale dell'Unione Europea tale per cui mancano le disposizioni diciamo attuative in sede europea è stato quindi deciso che il termine per la presentazione del nuovo DEF cioè il programma strutturale è stato stabilito per il 20 di settembre le nostre previsioni sono per quanto riguarda la crescita economica viste in ribasso rispetto alla NADEF quindi in particolare noi passiamo a una previsione di crescita del PIL dell'1% nel 2024 ovviamente al Ministero stiamo pensando come si possa ulteriormente andare nella direzione di taglia di spesa naturalmente non ci aspettavamo o meglio non aspicavamo il disastro del super bonus anche se credo io di averlo in qualche modo evocato in questa sede diverse volte e quindi questo complica il quadro per quanto riguarda la decontribuzione quando si farà la legge di bilancio e il programma strutturale a settembre sicuramente si troveranno le forme perché questa è la priorità numero uno per confermarlo succede che quando tu fai una misura espansiva non parliamo solo di super bonus parliamo di misure perché questi hanno tagliato alle aziende hanno tagliato alla sinistra no no mi faccio concludere se no se no non ha senso se no mi faccio concludere non ha senso è probabile quindi numeratore e denominatore le frazioni si studiano alle elementari da un lato mettiamo il debito da un'altra parte la ricchezza il PIL se tu distruggi misure come il super bonus e ti crolla il PIL il debito in percentuale mi faccio concludere aumenta tanto è vero che questi sono i numeri con i nostri governi il debito pubblico era sceso di oltre il 17% dal 2020 al 2023 con l'oro il debito pubblico in percentuale sta risalendo sta risalendo quindi non fatevi prendere in giro perché l'unico modo per misurare il debito è in base alla crescita allora è chiaro sentiamo la replica di Bagnai poi vado anche a Roberto Arditti bravo Comitoso perché dicendo ogni 30 secondi fatemi finire non finiva allora tecnica Bagnai io non non penso di dover replicare a questo tipo di impostazione vorrei aggiungere degli elementi però forse la domanda che le posso fare è questa ma tutti i problemi delle risorse delle casse dello Stato sono tutti imputabili a Zumba allora guarda questo io lo posso chiedere tutti noi ogni qualsiasi politico ha ovviamente un interesse diretto a fare misure espansive dell'economia a parte in casi in cui la disoccupazione sia al 3% e l'inflazione al 20% ma non era certo il caso dell'Italia piccolo problema però quello che si può rimproverare ai governi che ci hanno preceduto e di aver voluto fare misure in particolare il giallorosso che ha avvalato il superbonus hanno voluto fare misure espansive senza avere le risorse e direi anche senza avere la volontà e l'autorevolezza di andare a negoziare in Europa un quadro diverso perché ci ricordiamo che il negoziato fra Conte e la Merkel avveniva sussurrando alla signora Merkel che nel frattempo è scomparsa dal riflettore perché la situazione della Germania non è un enorme successo e ce l'ha portata lei ricordiamoci anche questo sussurrandole tranquilla poi gli italiani li calmo io insomma con questo tipo di atteggiamento non con la schiena dritta invece questo governo è andato con la schiena dritta e ha preso accordi il risultato il fatto che si presenti questo def chiamiamolo snello cosa che fanno anche altri paesi è il risultato di un preciso accordo come pure il fatto che si sarebbe entrati in procedura di infrazione è un tecnicismo ma guardi il discorso è che lei collega di delicati ma ci sono l'europello però lo sanno tutti che è una presa in giro facciamo concludere collega di lei all'opposizione fa benissimo il lavoro di oppositore io sono un governo un def fantasma perché vediamo un po' come vanno le cose non è un def fantasma l'avete fatto per l'europeo perché non potete dire agli italiani quello che avete realmente in mente perché se no non prendete un voto all'europeo guardi lo dico io abbiamo in mente di impoverire tutti gli italiani e perdere le prossime elezioni è contento così collega gubitosa volete vincere le elezioni e impoverire gli italiani adesso mi lasci adesso mi lasci volete vincere le elezioni europee e perdere le politiche governando male su quello non c'è dubbio le politiche prossime non avete proprio chance perché non ce la fate a prendere in giro allora facciamo una cosa sicuramente sicuramente ci sconfiggerete se ci arriverete dopodiché andiamo avanti e se posso aggiungo un po' di dettagli posso chiedere una gentilezza le aggiungiamo dopo Paolo Sottocorona le ridò la parola diciamo che il tema meteorologico è gemone in questo periodo viene anche prima dell'economia quindi non posso che cedere però poi dopo se mi fate dire come stanno le cose dall'osservatorio di chi lo sa riprendo da lei riprendo da lei anche con una considerazione che facciamo invece noi che ci permetteremo di fare dopo con Marco Fraddini Paolo buongiorno eccoci buongiorno è che purtroppo il tempo influenza anche l'economia lo sappiamo benissimo quindi non è un'esagerazione come lasciare una pagina in bianco quasi per mancanza di ispirazione per precauzione una scelta precisa del governo che con il documento di economia e finanza asciutto così viene definito fornisce i dati di bilancio tendenziali ma non quelli programmatici che comprendono i tagli di spesa e senza della politica di gestione dell'esecutivo ma anche della qualità dei conti pubblici adesso in difficoltà se i conti non tornano meglio aspettare l'autunno pratica legittima concordata con Bruxelles ma da catenaccio probabilmente bisognerebbe svelare numeri tutt'altro che brillanti il solito super bonus 122 miliardi di costi pesantissimi sul debito che ha grandi responsabilità però dimenticarne gli effetti positivi sulla crescita è contraddittorio ora a numeri brutti corrisponderebbe l'impossibilità bruttissima di mantenere le promesse elettorali per esempio sul taglio delle tasse e peggio farne di nuove fra poco si vota per l'Europa ma anche per oltre 3000 comuni senza contare poi le altre regioni un test quindi è verosimile un rinvio in attesa dell'esito delle urne da quelle europee potrebbe uscire un quadro più vantaggioso per trattare con la commissione magari si potesse intavolare ancora con Ursula von der Leyen la sintonia con Giorgia Meloni è nota ma la conferma non è scontata anzi c'è anche un altro motivo più ufficiale attendere l'efficacia operativa del nuovo patto di stabilità solo che non è più morbido del precedente per l'Italia è in vista una procedura per deficit eccessivo situazione scomoda forse paradossale che si dovrebbe risolvere da manuale con una manovra correttiva ma al momento guai a parlarne la crescita quella previsione c'è l'1% nel 2024 ottimistica visto che la banca d'Italia ha espresso in un modesto più 0,6% le possibilità di aumento del pilo italiano se poi la BCE taglierà i tassi anche il peso degli interessi si ridurrà è un'architrave della speranza applicata alla contabilità lo ha fatto Draghi e anche Gentiloni vero? pubblicarono un DEF in bianco però alla fine dei loro governi non all'inizio si tralasci la leadership super tecnica espressa soprattutto da uno dei due nel frattempo si ricordi comunque che l'Italia è alla vigilia di un nuovo esame di affidabilità da parte delle agenzie di rating fin qui indulgenti e un compito in classe quasi in bianco può sembrare ai famigerati mercati una sfida non immediata ma la pagella prima o poi arriva Bagnai è un quadro verosimile questo no? dopo tutti questi spot diciamo allora vorrei innanzitutto chiarire una cosa parto da un'osservazione fatta dal collega qua architrave della speranza è bellissimo e anche arca della salvezza allora innanzitutto siamo anche qui alla fine di un regime diciamo di un governo di un regime più che altro di regole europeo europeo non nel senso che cade la commissione perché scade la commissione perdonatemi ho dimenticato una S la S di serpente non nel senso che cade la commissione ma nel senso che siamo con nuove regole questo significa che in un contesto simile con regole diverse quindi con un quadro programmatico che deve essere espresso rispetto a obiettivi diversi di spesa non di deficit non entrano i tecnicismi con il fatto che poi siccome tanto abbiamo capito come funziona ci sono tutte queste regolette ma alla fine è un problema di rapporti di forza politici andrà negoziato con la prossima commissione il contenuto effettivo onestamente come dice Giuseppe Litturri che consiglio di leggere su Startmag tanto sta su internet è gratuito dice che sono state scritte molte fesserie dai giornaloni rispetto al DEF diciamo che lui che tendenzialmente anticipa quello che i cosiddetti giornaloni di Coroppo quindi va bene a leggerlo un'altra cosa importante che notava oggi il presidente Garavaglia sul tempo due cose importanti primo le nuove regole danno oggettivamente maggiori margini di flessibilità sono definite su orizzonti più lunghi c'è tutto un discorso adesso non voglio annoiare secondo e questa è una cosa però importante e che va detta perché fa parte di quella retorica anti italiana che tanta politica italiana ha utilizzato c'è un dettaglio le spese fatte per cofinanziare progetti europei che finora entravano nel conto cioè come funzionava l'Europa ti prendeva i tuoi soldi te li ridava dicendo ci devi fare quello che dico io e in più ci devi mettere degli altri soldi che però contano nel tuo debito ecco quest'ultima parte per fortuna ce la siamo tolta d'ora in avanti il cofinanziamento come mi sembra abbastanza diciamo naturale giusto non entra perché guardi che questa cosa del cofinanziamento non era banale era un grandissimo freno alla spendita dei fondi europei dal momento che tante amministrazioni non avevano dell'oro per come dire complementare la somma che è teoricamente mille euro quindi come dire abbiamo un quadro che per carità io mi rendo conto se fossi io all'opposizione parlere se permettete vi parlo se volete facciamo questo esperimento vi parlo male del DEF mi immedesimo e faccio finta che il ministro Giorgetti no ma nel senso che dato che nel DEF non c'è nulla io ho fornito a fare io ho fornito chiedere a bagnare un'altra cosa mi permette di fare una domanda come parlare mai del DEF in modo senzato le faccio una domanda però diciamo rispetto alle cifre che sono state date per fargliela cito oggi sul Repubblica Lorenzo Binismaghi che è stato anche nel bordo della BCE dove lui dice sulla crescita all'1% il DEF è piuttosto irrealistico se si cresce meno del previsto si dovrà compensare con tagli di spesa aumenti fiscali per non sforare l'obiettivo del deficit non giova alla chiarezza la mancanza di dettagli sulle misure aggiuntive spero che ci si stia lavorando soprattutto se si vuole trovare spazio dal lato della spesa sempre più difficile da tagliare rispetto ad aumenti di tasse massimo rispetto per il dottor Binismaghi che fra l'altro ogni tanto ha anche degli sprazzi diciamo di profondità e lucidità che non possono essergli disconosciuti questo non mi sembra che sia il caso ma questo diciamo lasciamo perdere io vorrei notare che la vera novità di quest'anno è che la stucchevole querimonia sulle coperture che normalmente inizia a settembre quest'anno l'abbiamo anticipata a aprile è veramente vero che non esistono più le mezze stagioni perché voglio dire qua si sta rimproverando a un governo che ha mantenuto tutte le scadenze e tutte le promesse si ricorda l'anno scorso legge di bilancio consegnata in tempo ha tradito tutte le promesse elettorali e delusa milioni di italiani e questo non c'è dubbio non c'è dubbio ha tradito tutte le abbiamo per esempio tradito il collega Bubitosa e io ne sono profondamente afflitto un dato se posso andare avanti la benzina è andata di nuovo sopra i due euro la Meloni faceva i video con la pompa in mano che voleva eliminare le accise ha tolto lo sconto sulle accise che noi avevamo messo ma io vengo io vengo in televisione per informarmi e per divertirmi se non stare a casa la televisione a casa non la guardo il collega Bubitosa purtroppo ha poche occasioni di incontrarlo quindi diamogli tutto lo spazio che vuole il punto però poi sono i fatti questo governo benzina sopra i due euro ha mantenuto le scadenze e gli impegni ha acquistato una autorevolezza in Europa riuscendosi a comunque ad aprire degli spazi politici voglio dire che nel 2026 era già previsto dalla nazione è il contrapunto di prima specie una parola mia una parola sua e va benissimo è quello che si fa quando si inizia a studiare musica andiamo un po' ecco allora ha mantenuto così diventa polifonia siamo un terzetto ha mantenuto ripeto i suoi impegni vorrei che si valutassero i fatti d'accordo? e i fatti sono quelli che vi ho raccontato i fatti li vedremo a settembre con la nota di aggiornamento ma guardiamoli oggi ma guardiamoli oggi li vedremo a settembre questi fatti il primo def senza scostamento da 4 anni a questa parte la manovra estiva scongiurata è come le dico un'altra le dico un'altra un'altra sindrome che diciamo così è di stagione di solito a dicembre andrete in esercizio provvisorio quello si dice tutti gli anni e allora adesso cominciamo a dirlo a aprile non è che poi alla fine guardiamo i numeri di oggi la produzione industriale del nostro paese sono mesi che è sempre in negativo e la crescita dello 0,6 del nostro paese è un fallimento per la Meloni abbiamo la Germania in recessione ma di che stiamo parlando l'indice PMI che è l'indice che misura il clima economico delle imprese è per la prima volta da mesi sopra 50 quindi territorio espansivo poi diciamo parliamo di cose verificabili così chi ci ascolta se è interessato ovviamente se c'è uno che tifa per me non lo farà se c'è uno che tifa per il collega Gubitosa non lo farà se c'è uno che è in dubbio vada a vedere dov'è l'indice PMI vada a vedere come sta la Germania che chiaramente ci tira giù possiamo guardare che gli altri stanno peggio di noi dobbiamo spiegare dobbiamo spiegare